Tanti pensieri, tanti lavori per fare la moto di quest'anno, abbiamo fatto un step abbastanza grande, soprattutto la moto in centro curva gira di più con il gas, è una delle mie qualità, quindi sono molto soddisfatto perché vedo in questa moto un potenziale che non teneva la moto vecchia. Cosa rimane ancora da fare? Quanto? Beh, se abbiamo migliorato il centro curva la frenata ancora è più o meno uguale, quindi lì abbiamo abbastanza margine di migliorare, però diciamo che per essere la prima volta che proviamo la moto abbiamo fatto un tempo molto buono e soprattutto quello, vediamo che c'è un potenziale molto maggiore. Senti, prima abbiamo sentito i tuoi due colleghi, i Petrucci e anche Dovi, Petrucci era al settimo cielo, Dovizioso un po' più tranquillo, tu sei soddisfatto, tanto soddisfatto, qual è il tuo umore, il tuo stato d'animo oggi? Tranquillo, tranquillo, è evidente che dopo un anno stando a un secondo sette, adesso stare a tredecime è una cosa diversa, però seppone seppone, seppone è un circuito speciale, quindi abbiamo cominciato bene, mancano ancora due giorni.